Onestamente, lei, uomo di governo, uomo politico navigato e anche, posso definirla, un vecchio saggio della politica a questo punto, si è mai detto una mattina, beh, però insomma, sto Draghi effettivamente, rispetto a prima, sì o no? No, insomma, io cerco di essere obiettivo, guarda che io non sono fazioso. Lo so, per questo ci piace che venga a trovarci, perché lo so che lei ormai è un osservatore anche un po' disincantato, no? Non vedo la gente che ci ascolta, quindi possiamo stare, cosa penso io, cosa pensa lei, eccetera. Ma sui due punti fondamentali, cioè come si governa la pandemia e come si fa l'architettura di soccorsi, ristori, sostegni, a me pare che prevalga una continuità, anche rispetto al bistrattato Conte, che io ho sempre detto, non dico che Conte, ma è bistrattato perché la tribuna VIP lo fischiava anche quando faceva gol, e qualche gol l'ha fatto, ma la tribuna VIP fischiava. Poi non ha fatto tutti i gol, ha sbagliato che qualche rigore, ma per Baco... Ha sentito prima Mario Calabresi diceva che ha messo in riga le regioni, per esempio, sui vaccini. No, guardi, guardiamo meglio. Non è vero che le regioni stanno facendo adesso tutte allo stesso modo, è che c'è meno clamore. Non è vero. Noi, come numero di vaccinati su mille abitanti, siamo più o meno quel che eravamo, forse anche un po' meno. Siamo indietro alla Germania e alla Spagna, siamo un pochino più avanti della Francia. Quindi ha prevalso la continuità, dice lei.